Buongiorno a tutti, ben ritrovati in diretta a Radio Padale Libera, buon lunedì, buon inizio di settimana a 14 e 56 minuti, seggi aperti ancora per 4 minuti in tanti comuni italiani, ancora qualche secondo in compagnia dei Dyer Straits, poi la pubblicità e poi cominciamo. Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, a mezzanotte finisce la campagna elettorale. 8 motivi per votare Giuliano Pisapia, il primo perché la padania mi fa schifo. Io credo che quando stiamo a pezzo Alvini pentito piace. Venite a firmare per il grande concorso, la moschea di Pisapia la voglio a casa mia. Vediamo chi vince. Grazie mille. Secondo, perché la padania ci va stretta. Cittadini, informati perché il day day after e il dopani per la tua famiglia è vicino. Perché la padania non esiste. Cittadini, informati per la tua famiglia è vicino. 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 Grazie a tutti.